Oh buongiorno buongiorno signori di Barletta Vest siamo qui lungo mare Mennea dopo il Massawa Barletta si scopa ragazzi si scopa la grande dovrebbero mettere dei contenitori dei bagni chimici guardate insomma poi tutti i giorni vedere queste questo casino qua vaschette di patatine castoni di pizza preservativi assorbenti fasoletti pannolini 500 lire il pezzo diamo guardate è continua 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 fino all'ingresso diciamo dei lidi guardate coca cola cosa vi siete persi senza zucchero e continuo continua fasolecce assorbenti pannolini cotton fiocca preservativi usati ok ragazzi buona giornata Barletta e Avest